Siamo con Alessandro Campagna, direttore dei saloni nautici, la prima domanda è, siamo qui in un salone, quello dell'IS 2018, come vede il mondo del leasing e del noleggio dal vostro punto di vista, come lo vedete? Dal punto di vista nautico, buongiorno a tutti, devo dire la verità che l'iniziativa è assolutamente un'iniziativa positiva e di successo, è molto interessante per noi che apparteniamo al comparto della nautica da Di Porto, perché il leasing è lo strumento naturale che consente a un armatore di poter raggiungere il proprio desiderio, quindi l'imbarcazione è quello che rappresenta per l'armatore, quindi la sua passione. Bene, sicuramente tante novità sono oggetto di discussione in queste due giorni, uno è il nuovo contratto di leasing, poi abbiamo gli FR16, quindi le novità fiscali, dal vostro punto di vista in realtà il mercato si è ripreso per queste novità oppure il mercato si riprende anche per altre iniziative e per la forza dello stesso comparto di rialzarsi? Il mercato si sta riprendendo e questo per noi è il dato fondamentale perché veniamo da un quinquennio un po' complesso e sicuramente quello che lo testimonia a livello numerico sono i dati registrati del leasing nautico in Italia lo scorso anno che Versus 2016 ha registrato un più 70%, che non è solo un valore in termini assoluti di fatturato, quindi di valore erogato ma è di numeri di contratti e questo è estremamente importante, significa che lo strumento leasing è uno strumento fondamentale per lo sviluppo del nostro comparto, al di là di quello che può essere la passione del singolo armatore, se poi non ha lo strumento è difficile diventare armatore. Questo sicuramente, e la filiera come sta rispondendo a queste novità normative? Dal vostro punto di vista all'interno delle iniziative fieristiche principali di questo paese, la filiera è presente, riesce a rimanere in piedi oppure è sopraffatta dalla concorrenza estera? No, devo dire che rimane in piedi, rimane in piedi anche per il valore aggiunto e il valore qualitativo che l'industria sa produrre all'interno del suo prodotto, quindi un valore aggiunto che supera la competitività magari un po' più numerica ma meno qualitativa del mercato estero. Bene, grazie direttore e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi.